Oggi venerdì 10 maggio ha preso il via il primo torneo delle ISOP, il Day 1A del DIP. 210 giocatori in partenza al San Vensan Resort & Casino. Domani si giocherà il Day 1B alle ore 14 a cui si potrebbe aggiungere un Day 1C in serata per soddisfare tutte le richieste dei giocatori. Adesso andiamo a conoscere qualche player. Siamo con Paolo Della Penna, campione italiano uscente. Allora Paolo, cosa ti aspetti? Replichiamo, non replichiamo? Siamo qui apposta. No, non è facile. Ci sono tantissimi giocatori, tra cui molti molto bravi. Sarà difficilissimo, voi sapete che vincere è difficilissimo. Speriamo vada bene. Speriamo in una doppietta. Sarebbe strepitoso. Noi te l'auguriamo intanto. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.